I sindaci e rappresentanti dei comuni delle aree interne e montane che hanno partecipato al bando regionale per la rigenerazione urbana, finanziato con 10 milioni e 600 mila euro dalla regione toscana, hanno incontrato a Firenze l'assessore al governo del territorio Vincenzo Ceccarelli per stabilire tempi e dettagli dei progetti, tutti finalizzati a ridare vita a edifici e zone urbane degradate. Dopo un primo stanziamento di 4 milioni di euro, la regione ha stanziato altri 6 milioni e 600 mila euro per scorrere la graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili, finanziandone 36. Sono tutti progetti relativi alla riqualificazione urbana di manufatti magari fatiscenti oppure che hanno perso ruolo e funzioni e che vengono destinate invece ad altre funzioni, riqualificazione e ammodernamento, efficientamento di parti di città. Progetti pensati per ridare una funzione sociale agli edifici in disuso, alle aree degradate oggetto della rigenerazione, come a San Romano in Garfagnana in provincia di Lucca, dove ad esempio con un finanziamento regionale di 800 mila euro si cambia volto a un complesso edilizio nel centro storico. Saranno destinati ad un progetto di housing sociale destinato agli anziani autosufficienti e per una parte anche ai visitatori delle vie storiche dei cammini, in quel tratto siamo appunto interessati dalla via del Volto Santo. Ad Arcidosso, in provincia di Grosseto, l'ex mattatoio di proprietà del comune, composto da più edifici e ora in condizioni precarie, sarà completamente trasformato con un finanziamento regionale di circa 120 mila euro. Il progetto consiste nella riqualificazione di un'area che in tempi lontani c'era la macellazione delle carni, vicino a un centro abitato della frazione Bagnoli, che è di nostra proprietà e quindi abbiamo interesse a riqualificarlo perché è in condizioni molto precarie e per adibirlo poi a rimessa, a magazzino e a servizi di cui il comune ha particolarmente bisogno.